Ciao, sono Marco Merri e sono qui per invitarvi a Taranto, in Piazza Kennedy, il 17 aprile. Partirà una gara organizzata da Taranto Sportiva dal titolo Taranto nel cuore. Alle 9.30 verrai a ritirare la tua maglietta e partirà la 3 km non competitiva, la 10 km competitiva. Alle 11 la mini rampa dei ragazzini e alle 11.15 la gara per atleti con abilità diverse. Mi raccomando, il 17 aprile, la Taranto nel cuore. Mi aspetto.